Buonasera e bentornati alle delizie di Daniela, la trasmissione più golosa del nostro palinsesto televisivo. Allora, ciao Daniela. La volta scorsa Daniela ha presentato una ricetta dolce per la regola dell'alternanza. Oggi va via col salato, ma rimane sempre la bandiera partenopea perché sono dei... Tortelli napoletani. Buonasera. Sì, perché devo dire che le ricette napoletane come quella che abbiamo fatto settimana scorsa della Santa Rosa è piaciuta tantissimo. E quindi ho pensato di restare in zona e ho creato stasera una bella ricetta con un ingrediente che è nostro proprio tipico, cioè i friarelli e naturalmente abbinato con la salsiccia. E chiaramente ho pensato anche di strutturarla un po' rivisitata, per cui diventeranno dei tortelli questi friarelli. Bene, quindi la forma diciamo è quella bolognese, perché il tortello è più una cosa bolognese e il ripieno napoletano. Esatto, esatto. Anzi, io guarda, ti ho fatto anche un piccolo cadeau perché ho pensato di farti un piccolo omaggio floreale. Ma sei dolcissima ragazza. Ragazzi, guardate come mi vizia Daniela. Guardate che belle cose che ci sono qui. Tra l'altro io vado manta per tutti questi ingredienti. Forse è un po' meno per l'aglio, ma il peperoncino che fa benissimo, anzi adesso proprio in periodo influenzale mangiatelo perché protegge. I friarelli anche sono molto buoni, soprattutto come verdura e i pomodori ricchi di vitamina C, licopene, eccetera. Lo so che io parlo sempre di quelli che sono i valori nutrizionali, ma sono anche, lo so, anche diciamo apprezzare il gusto di questi alimenti. Allora, con questi tu realizzerai i tortelli. Esatto, questi sono gli ingredienti. Parte, perché poi mancano le salsicce e non te le ho messe perché non era carino nel bouquet. Ma comunque, insomma, con questi ingredienti andremo a preparare la ricetta di stasera. E quindi procediamo con questa ghiotta ricetta. Vediamo che Daniela ha già preparato la sua tavola di legno con gli ingredienti per realizzare la pasta. Esatto. Allora, dicevamo che è un tortello, quindi all'esterno avremo questa pasta all'uovo. L'abbiamo già fatta altre volte. Ripetiamo un po' per gli amici da casa. Allora, 100 g di farina doppio zero. Diciamo che noi faremo una quantità all'incirca per quattro persone, in modo che da casa si possono regolare. Poi, 100 g, abbiamo detto farina doppio zero, 100 g di semola. Quindi, vedi, stavolta metà e metà. Perché, essendoci un impasto all'interno un po' umido, quindi in questo caso andremo a mettere, abbiamo detto, friarelli, salsicce, stempereremo con un po' di ricotta, sarà importante che la pasta fuori sia un pochino più spessa, in modo che trattenga l'umidità del ripieno. Che cos'è che dà spessore a questa pasta? La farina o la semola? La semola, la grana, diciamo, più spessa della semola. In questo caso, poi, vedi, vado a mettere anche un pizzichino di sale, in modo che questa pasta la facciamo meno sciocca e le diamo un po' di saporino in più. Poi, due uova, perché noi sappiamo, abbiamo detto tante volte, che l'impasto va fatto ogni 100 g di farina, un uovo. Quindi, in questo caso, abbiamo usato 200 g tra semola e farina e andiamo a impastare con due uova. Quindi, molto, molto semplice, vedi, dobbiamo proprio crearci il nostro panetto di pasta. Questo lo potresti fare anche tu, in maniera molto semplice, però oggi sei vestita troppo elegante, per cui non te lo faccio fare. Oggi sono la signorina Rottermeier, quindi anche da parte tua esigo un certo rispetto, una certa, come dire, senti un po' quella che è la mia altezza proprio di severità, eh? Non con queste cose che devo fare la pasta, eccetera. Va bene, manterrò un adeguato contegno, non ti preoccupare. Noi scherziamo perché ci fanno. Ma anche no, io veramente sono la signorina Rottermeier. Allora, Daniela, mentre tu stai impastando, ti voglio dire che la ricetta dell'ultima volta era veramente deliziosa. Molte mie amiche l'hanno provata e hanno cercato, insomma, di ripetere la tua, che è inarrivabile, ma comunque con grande soddisfazione. Anche tu hai avuto, diciamo, questi apprezzamenti, so. Sì, sì, ho avuto anch'io grande riscontro e questo mi ha fatto veramente piacere. Ma io, diciamo che propongo sempre delle ricette di cui sono certa, nel senso sia nel gusto che nella tecnica. Perché poi noi purtroppo dobbiamo anche fare delle cose che siano semplici, cioè non dobbiamo crearci poi e complicare la vita a chi sta da casa. Quindi gli dobbiamo dare la possibilità, magari a chi non ha tanti strumenti, non ha tanto tempo, di rifare le ricette. E quella è una ricetta che volendo si può rifare. E poi il risultato, come dici tu, sicuramente è gradevolissimo ed è piaciuto. E questo ci fa piacere perché noi lo facciamo apposta per loro. Allora, vedi, nel frattempo, mentre parlo con te, sono passata sulla mia tavola e la pasta praticamente è pronta. Vedi? Gli diamo un altro po', sempre come abbiamo spiegato più volte, con il palmo della mano. Vedo che te nasce come pasta, ci vuole anche una certa forza, una bella energia. Sì, esatto, deve incordarsi bene la pasta. È importante perché poi dopo, quando riposerà, tutti gli amidi si andranno a rilassare. E questo permetterà poi di avere una buona pasta con una giusta elasticità e una giusta rovidità. Una volta che l'abbiamo realizzata, vedi come in questo caso, che cosa facciamo? Sempre il solito procedimento, una piccola pellicola o in un barattolo chiuso e la lasciamo un pochino riposare in modo che gli amidi si rilasseranno perché le abbiamo stressati nell'impasto e dopodiché sarà pronta per essere utilizzata. Quindi adesso andiamo allo step successivo. E quindi, come al solito, abbiamo guadagnato la postazione dei fornelli dove Daniela, la nostra chef, si accinge a preparare le verdure. Vedo che hai in mano già l'aglio e il peperoncino, quelli che hai regalato a me. Esatto, prelevato dal tuo buchè, non ne hai volere a male. Allora, i friarielli, vedi, ho pulito soltanto le cimette, chiaramente, e adesso li andrò a far soffriggere e stufare in padella. Nel caso in cui non dovesse piacervi quel retrogusto un po' amaro particolare che ha il friariello, potreste dargli leggermente un bollo. Poi li scolate e li soffriggete. A me, sinceramente, non dispiace questo aroma un po' amarognolo, per cui ce lo lascio e mi piace anche che sia un po' così, un po' più forte di sapore. Ho messo in una padella a bordi alti, vedi, dell'olio extravergine d'oliva. Ci vado a mettere un bello spicchio d'aglio e anche, naturalmente, una puntina di peperoncino. Ricordiamo una cosa, questi sono peperoncini freschi, locali, e quindi vanno messi in questa occasione, perché, essendo fresco, lo possiamo far soffriggere. Nel caso, invece, fosse quello secco, quello là non va fatto soffriggere. Va inserito dopo, magari, sbriciolato, perché altrimenti brucia e quindi darebbe un sapore amaro. Quindi, questa è anche una piccola cosa che bisogna dire. Quando vedete sfrigola e comincia a soffriggere, ci andiamo a calare i nostri friarielli. Ecco qua, vedi? Ed è già Natale! E praticamente sì, praticamente sì. Allora, a questo punto che cosa succede? Li andiamo leggermente a sfumare con un po' di vino bianco, ok? Perché comunque il vino è anche un altro sapore nostro ed è un sapore che sposa biterraneo. Esatto, esatto. E poi ci andiamo a mettere un po' d'acqua, ok? Leggermente, senza esagerare, perché poi dovrà un po' evaporare. A questo punto cosa facciamo? Li lasciamo cuocere con un bel coperchio, vedi? Abbassiamo la fiamma e leggermente, dolcemente, li facciamo stufare. Chiaramente, man mano, l'acqua si assorbirà. Ce ne andremo ad aggiungere sempre un pochino, fino a portarli ad una cottura ottimale, che è quella abbastanza tenera, perché poi, ricordiamoci, sarà il ripieno del nostro tortello. Quindi dobbiamo farli cucinare bene, non li tiriamo su troppo al dente, troppo coriacei. Quindi li lasciamo cucinare e facciamo lo step successivo. Rimaniamo sempre qua, perché si continua a cucinare. Questa volta in pentola finirà la salsiccia. Esatto, abbiamo detto frierelli e salsiccia, quindi che cosa facciamo? Ce la andiamo a sbucciare, la nostra salsiccia, e la mettiamo in padella con un po' d'olio. E la facciamo soffriggere, ok? Quindi adesso la dobbiamo anche un po' spezzettare. Abbiamo detto, per i frierelli ce ne vorranno due mazzetti. Invece le salsicce devono essere due, vedi come queste, fatte a punta di coltello, quindi un po' grossolane. Poi se non piacciono si possono chiaramente fare anche più sottili. Allora, io le taglio un po' a pezzettini così con le mani. Poi chiaramente dopo mi aiuterò con una cucchiarella e me le andrò un po' a stemperare. Ecco qua. Deve venire una salsina di salsiccia. Deve venire, sì, un po' sbriciolata. Magari con la forchetta facciamo anche meglio. Allora, deve venire un po' sbriciolata, anche se poi noi dopo, comunque, l'andremo a frullare il tutto. Però, diciamo che facendo in questo modo, si insaporisce meglio e rimane anche più croccante. Perché se la andiamo a cuocere a pezzettoni grossi, che succede? L'esterno diventerà croccante, ma l'interno sarà ancora troppo morbido. Invece, in questo modo, avremo una bella croccantezza di tutta la polpa della salsiccia. Salsiccia naturalmente di suino. Allora, a questo punto, vedi, comincia a cambiare colore. Si sta ben abbrustolendo. E quindi, andiamo anche qui a sfumare con un po' di vino bianco. Ecco, prendiamo il vino che è in grado di ammazzare un po' quelli che sono i sapori troppo forti, vero? Sì, e poi comunque darà anche una sua nota agrumata maggiore all'interno. Dipende anche dal tipo di vino che andremo ad utilizzare. Se usiamo un vino novello oppure un vino più corposo, chiaramente. Ecco qua, vedi, comincia a sbriciolarsi bene e a rosolare. A questo punto, che cosa succede? Che noi la andiamo a cuocere e la portiamo a cottura tutta. Poi ne togliamo una parte. Perché? Una parte andrà nel nostro ripieno. Mentre un'altra parte la utilizzeremo sbriciolata e spolverata sui nostri tortelli. Quella che andrà nel ripieno la lasciamo in padella e la andiamo poi a insaporire con i friarelli. Quindi, una volta cotti i friarelli, assembleremo i due ingredienti. Ecco qua, vedi, sta ben rosolando. Quindi ancora un minutino che raggiunge un colorito un pochino più bruno. Dopodiché spegneremo. Faremo raffreddare tutte le preparazioni perché l'importante poi per riempire i nostri tortelli è che tutto sia freddo. E poi assembleremo. E andremo a stemperare questi sapori anche un po' decisi e un po' forti con un po' di ricotta. Perché ho pensato che era carino che comunque all'interno si trovasse questa nota un pochino più dolce della ricotta. Continuiamo quindi la preparazione dei nostri tortelli napoletani. Daniela ha steso la pasta, come potete vedere qui sul piano. Come è? Sottile o premedia? No, no, sottile, sottile. Vedi, deve essere trasparente in modo, diceva mia nonna, che le dita si devono vedere dal di sotto. Quindi la trasparenza. Abbiamo steso la pasta che ha riposato. Adesso che cosa faremo? L'andremo a coppare in forma rotonda. Anche qui, naturalmente, la forma possono deciderla da casa. Io ho preferito fare questa. Questo è un diametro di 9 centimetri. E ce l'andiamo, vedi, a tagliare in questo modo. Quindi proprio un cerchio rotondo così. E continueremo così anche con gli altri. Ma la cosa importante che ti volevo far vedere è la farcia che dobbiamo andare a preparare. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo i friarelli che si sono raffreddati. Li ho anche un po' tagliuzzati. E li mettiamo in una ciotola. Dopodiché ci andiamo a mettere un po' della nostra salsiccia che abbiamo fatto rosolare in padella. Ok? E poi ci andiamo a inserire della ricotta. All'incirca, sulle quantità che abbiamo dato, un 150 grammi di ricotta vaccina. E andiamo chiaramente a stemperare il tutto. Poi, chiaramente, per aggiungere un po' di sale e dare un po' di sapidità al nostro piatto, andiamo a mettere del pecorino. Quindi, diciamo, un paio di cucchiai di pecorino. Un bel ripieno robusto. Ebbè, sì, corposo, diciamo. Ci vuole. Poi, questo comunque è un piatto che, vedrete, insomma, piace. Perché sicuramente raccoglie comunque dei sapori che, a parte, sono in questo periodo e quindi fanno parte della nostra stagionalità. Ma poi sono dei sapori che, in genere, piacciono un po' a tutti. A questo punto che cosa succede? Una volta stemperato bene il tutto, lo andiamo a frullare. Quindi adesso io lo metterò all'interno di un mixer, lo andrò a frullare e lo metterò anche in una sac a poche, perché questo poi lo andremo a preparare per la nostra farcia. Quindi siamo giunti al momento in cui questa ottima pasta riceverà la sua farcia, che Daniela ha già preparato nella sac a poche. Esatto. Al centro di ogni disco, vedi, andiamo a mettere proprio una pallina d'impasto. Poi ti dirò di più. Vedi come è venuta bella frullata. Stavo vedendo proprio questo, che è molto omogenea rispetto alla salsa, alla farcia originale, prima di essere frullata. Ha questa consistenza veramente molto, molto omogenea e quindi penso che all'interno della pasta renda molto meglio. Insomma, renda meglio. Sì, sicuramente è più piacevole al sapore. E poi, vedi, ho messo anche un dadino di cacciotta. Ora, questo è facoltativo. Se vi piace potete aggiungerlo, altrimenti potete lasciarlo soltanto con questa crema fatta di ricotta e abbiamo detto salsiccia, pecorino romano e poi ci abbiamo messo i friarielli naturalmente. Quindi non è proprio una, diciamo, un ripieno semplice semplice. Quindi, insomma, è già molto molto saporito. Il pezzetto di formaggio è un tocco in più di lussuria. Esatto, esatto. È quell'esplosione in bocca in più che andremo a trovare. Allora, in un bicchierino ho messo un po' d'acqua e adesso me lo vado a chiudere. Che cosa faccio? Vedi, lo chiudo prima a metà e vado piano piano, vedi, a girare tutto intorno perché devo eliminare assolutamente tutta l'aria che c'è all'interno. Questa è un'operazione molto importante. Dopodiché, una volta che mi sono, diciamo... Una volta che si è fatto, diciamo, questo lavoro di togliere l'aria all'interno, altrimenti in cottura dà dei problemi. Esatto. Che cosa faccio? Lo arrotolo intorno al mio dito. Vedi? In questo modo. E quindi realizzo questo tortello in piedi perché io così li voglio fare tutti. Ti piace come forma? Sì, sì. Sembra... Non so, sembra proprio la testa di un cardinale, va? Ha proprio questo aspetto austero. Allora, io adesso procedo a chiudere anche gli altri, naturalmente, e poi dobbiamo andarli chiaramente a cucinare. Quindi che cosa dobbiamo fare? Li lessiamo in una bella pentola con acqua bollente salata. Quindi adesso continuo a chiuderli e poi ci spostiamo nella cottura. Ed ecco qua, ci troviamo di nuovo ai fornelli, l'acqua bolle ed è pronta ad accogliere questi ottimi tortelli napoletani. Esatto. Allora, ho aggiunto del sale. Poi ti ricordi un passaggio importante? Che cosa ci dobbiamo mettere? Dell'olio, cosicché la pasta non attacchi, insomma, i vari tortelli non si attacchino tra di loro. Sei diventata bravissima, guarda, mi sorprendo. Allora, tra questi tortelli, vedi, ce ne sono alcuni congelati. Io li metto qua, perché dobbiamo dire alle amiche da casa, perché a volte si lamentano del fatto che alcune preparazioni richiedono un po' di tempo, che voi volendo li potreste anche fare prima e congelarli. Naturalmente li dovete mettere prima separati in una ciotolina, possibilmente dovrebbero andare in abbattitore, però li mettiamo magari in congelatore, perché non tutti a casa poi ce l'hanno. Li mettiamo in una vaschetta separati, aperti, uno per uno. Dopodiché, una volta che sono congelati, li possiamo mettere o nei sacchetti per alimenti, oppure in una ciotola, sempre con coperchio. E quindi li possiamo conservare anche per una ventina di giorni. Quindi non avete scusanti, dovete farli. Allora, ho messo prima quelli congelati, che chiaramente richiedono un tempo di cottura maggiore, e adesso metto invece quelli freschi che abbiamo fatto prima. Vedi che cominciano già a salire su. Quando salgono sopra vuol dire che sono quasi pronti? Esatto. Dobbiamo verificare anche un po' la parte quella lì più spessa della pasta, quindi il bordo che abbiamo rigirato. Li lasciamo un attimino prendere il bollo, dopodiché li andremo a scolare e li mettiamo in questa padella, dove io prima ho cotto, e si vedono le tracce, la salsiccia e i friarielli, perché così prenderanno questo sapore, chiaramente con l'olio, il vino e un po' tutti gli aromi della salsiccia e dei friarielli. Allora, vedi, cominciano a venire su. Come si capisce quando sono cotti? Perché guarda come sono sottili. Vedi, cominciamo a vedere la farcia. Quindi vuol dire uno che abbiamo fatto bene la pasta e due che sono cotti. Ok? Quindi adesso ce li andiamo a scolare tutti quanti, dopodiché li andiamo a appoggiare lì, perché poi dobbiamo passare al passaggio successivo che sarà l'impiattamento. E la fase finale, dove tutti gli alimenti, la pasta, la farcia, insomma la salsa anche, si riuniranno in quello che sarà poi la presentazione del piatto. Esattamente. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Ti ricordi, avevo detto, una parte dei friarielli lasciamoli da soli, quindi non utilizziamoli per la farcia, perché le andremo sempre frullati a mettere su un piatto e diventeranno praticamente il letto di questi nostri meravigliosi tortelli napoletani. Dopodiché andiamo a prelevare i tortelli. Se hai notato bene, qui sul tavolo ho anche due ingredienti in più che non abbiamo detto, e cioè un bel tarallo in sugna e pepe, perché comunque rientriamo sempre nella tradizione napoletana, e poi dei pomodori sott'olio essiccati. Questi sono fatti in casa, come puoi immaginare, però volendo si potrebbero fare dei pomodorini confit fatti essiccare, per esempio in forno con degli aromi. E questi andranno ad aromatizzare ancora di più i nostri tortelli. Quindi cosa facciamo? Ce li andiamo a prendere, li preleviamo, e li mettiamo in piedi come tanti soldatini. Che dici? Benissimo, anche perché la salsa che hai preparato già denuncia una parte del contenuto del tortello. Sì, esatto. Noi dobbiamo sempre andare poi, chiaramente, a creare quello che è poi il condimento, non solo all'interno ma anche all'esterno. Poi che cosa abbiamo? La salsiccia che avevamo fatto, ti ricordi? Ce l'andiamo a sbriciolare un po' sopra così. Questa anche è carina come preparazione, diciamo, da trovarsi poi un po' di questa croccantezza. Poi abbiamo detto, il pomodorino, vedi, l'ho un po' tagliuzzato. Aspetta che prendo la mia pinzina, ecco qua, e ce la vado a mettere qua, perché un tocco di rosso serve sempre. Chiaramente si può, diciamo, l'idea era quella di mettere il peperoncino, però chiaramente trovare un pezzo di peperoncino così grande non sarebbe stato il massimo. Insomma, ci sono delle persone che hanno questa capacità anche di affrontare un peperoncino. Non sono molte, per la verità. Avranno fatto un po' di esperienza in Messico, magari. Eh sì, dovranno farla. Sì, però hai ragione, perché c'è chi le mangia, diciamo. Allora, adesso un po' del sughetto di condimento. Vedi, ce lo andiamo a prelevare dal nostro padellino, perché comunque devono essere sempre ben conditi. E poi, per ultimo, mi raccomando, per ultimo, perché non si deve inumidire. Per ultimo, ma non per importanza, perché il tarallo ha il suo carattere. Sicuramente. Ha il suo perché? Il tarallo. Ecco qua. Perché rimane comunque croccante. Invece, se lo andiamo a mettere prima, lo inumidiamo con l'olio. Ecco qua. Quindi io direi, ripuliamo il tutto e presentiamoli proprio in bella vista, questi nostri tortelli napoletani. Conclusioni e focus su questo ottimo piatto, che ha anche un bel aspetto, come tutte le preparazioni, che fa la mia amica Daniela. Allora, sicuramente, guarda, ci vado orgogliosa, perché tra l'altro questa è una ricetta che un po' mi sono inventata io, diciamola. Quindi mi piace, l'ho provata, è ottima, quindi spero che anche da casa sia piaciuta e che la rifaranno. Poi, come abbiamo detto, stiamo avvicinandosi sempre un po' alle feste, quindi questo è un piatto che si presta anche per un pranzo particolare, perché certo non è un piatto da fare tutti i giorni. Ecco, a tal proposito, se qualcuno lo volesse fare proprio nell'ambito di una cena, non solamente festiva, ti chiedo di suggerire un secondo per accompagnare questo primo e ovviamente una chiusura dolce. Allora, guarda, io ci metterei un bel filetto, perché comunque sia abbiamo messo, insomma, dei sapori molto decisi e anche un po' grassi, quindi magari un filetto alla brace, una buona carne, con un'insalatina, in modo che diamo comunque un attimo di... E poi sul dolce, sul dolce io direi di continuare con il tema napoletano. Quindi? Non lo so. E quindi, se tu non ti metti a fare il solito calcolo delle calorie, io direi una fettina di pastiera. Ah, Natè, ma qua siamo molto, molto, molto al di fuori del bilancio calorico. Dai, scegli qualcosa un po' più semplice, un po' più low carb. Dai, allora facciamo così. se lo presentiamo durante le feste, una fettina di panettone. Dai, lì sul panettone devi alzare le mani. Va bene, vada per il panettone, anche se un gelato al limone ci stava meglio. Comunque, va bene, in conclusione, ricordiamo la pagina Facebook e le piattaforme social sulle quali potete relazionarvi con Daniela. Noi vi aspettiamo sempre, perché aspettiamo oltre, diciamo, quelli che sono i vostri consigli, le vostre domande, richieste sulla trasmissione, anche le vostre ricette realizzate. Esatto, allora la mia pagina Facebook, le delizie di Daniela, anche su Instagram, vi aspetta, chiaramente per queste ricette, ma anche tanto altro, e per ricevere chiaramente i vostri consigli, che sono sempre preziosi. quindi buon appetito e buona serata a tutti!